Gara tiratissima, sono partito bene e ho cercato di spingere forte i primi giri, si è preso un buon vantaggio da metà gara un po' si era un po' in difficoltà ma col vantaggio preso ce l'ho fatta a vinci La categoria è molto livellata, ci sono piloti nuovi quest'anno e combattutissima, tiratissima dal primo giro all'ultimo La gara vedrai si verrà su Adria per provare anche per l'italiano e ci si confronterà con quelli del nord